Vince il 720vv2 maschile, la Canottieri Luino con Enrico Boy! Grande gioia, sentite che applausi, una bella soddisfazione per la Canottieri Luino che riesce a salire sul gradino più alto del podio. Abbiamo seguito sul traguardo l'arrivo di un'altra bella finale e la Canottieri Luino che si prepara anche a raccontarci come è andata questa avventura. Enrico hai vinto con un vantaggio assoluto, so che ci hai lavorato tanto, sei andato subito davanti in partenza? Sì, però è stato abbastanza difficile perché mi stavano abbastanza attaccati, prima dei 250 non riuscivo a distaccare, poi ai 250 li ho distaccati e ho vinto. Sei riuscito a vincere molto bene, a chi vogliamo dedicare questa bella vittoria? Ai miei allenatori e ai miei familiari. Salutiamo i tuoi allenatori, diciamo il nome? Arianna, Vittorio, Floriano, ero mio. Una tifoseria eccezionale, uno staff tecnico composto da quattro allenatori, grazie ancora e forza Canottieri Luino. Bravo Enrico, complimenti. Bravo Enrico, bravo.